Ci troviamo al nuovo di Via Olimpia, seduta di allenamento dei ragazzi della categoria Juniors Under 19 di Mr. Gianluca Rosato. A casa con la Lugia, l'indicato di Stras. Il nostro bello è un'altra azzurrazione. Ancora, basta! Solo! Solo! Al mezzo! Tira! Giallo! Giallo! Non esce qua, non esce qua! Ok! Vieni qua, vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Alle prossime riprese, qua da nuovo di Via Olimpia, buon proseguimento di giornata! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua!